Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Confronti, l'appuntamento e l'approfondimento del mercoledì della nostra emittente. Oggi siamo proprio catapultati in pieno sulla attualità nel vero senso della parola. Prima di conoscere gli ospiti che avremo in studio questa sera e con cui parleremo di tutt'altra cosa, abbiamo la fortuna di avere a Roma, precisamente a piazza San Pietro, Francesca Cipolloni che è il caporedattore di Emmaus settimanale della diocesi di Macerata che spero conosciate tutti e che in questo momento è collegata telefonicamente con noi per raccontarci un po' quello che è successo nella piazza più importante per quanto riguarda la vita e il sentire cattolico di tutti noi. Ciao Francesca, sei scoperto? Buonasera Antonio, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando. Ciao, una bella giornata, abbiamo visto una bella fumata, campane che hanno festeggiato questo avvenimento di oggi. Una lunga giornata Antonio, una lunga giornata iniziata ancora con la pioggia battente come ieri in una Roma insolitamente fredda, di solito Roma è baciata dal sole, questo proprio è stato accolto invece con un freddo un po' strano per una città come la capitale, ma riscaldato sicuramente da tantissimo aspetto perché la piazza ancora in questo momento è veramente un pullolare di emozione, un pullolare di gioia. Si legge dai volti dei tanti ragazzi, sono veramente tantissimi giovani arrivati qua in Vaticano, si legge nei volti della gente che aspettava veramente questo Papa. È stata una lunga giornata perché già da stamattina c'era qualche voce che circolava anche tra gli accreditati, tra i vaticanisti più vicini alle notizie certe e già ci si aspettava qualcosa. La sorpresa però è arrivata soltanto questa sera, 19.07 del 13 marzo del 2013 abbiamo il nuovo Papa Francesco Primo. Senti Francesca, da brava corrispondente tu oltre alle varie note che hanno rilasciato il padre Lombardi, con cui hai avuto tra l'altro il piacere di avere una bella discussione con tutti i giornalisti accreditati, un bel momento, ma da brava corrispondente sicuramente sei andata anche a cercare qualche aneddoto. Beh guarda, sicuramente di notizie ce ne sono diverse, considera che il nome di Bergoglio non era nella rosa dei papabili dell'ultima ora, non era suo il nome che circolava, tant'è che addirittura quando è stata pronunciata la fatidica frase della bemmus papam, in latino siamo stati veramente tutti attenti per cogliere bene il nome, qualcuno aveva addirittura frinteso il nome Bergoglio Bertone, c'è stato un momento di confusione, ma personalmente avendo studiato tutte le schede al sentire Horg Mario ho capito immediatamente che si sattava di quel Bergoglio che già nel 2005 arrivò come finalista al conclave. Bergoglio era uno infatti dei favoriti in aprile 2005, prese molti voti già dai primi scrudini, ma fece intendere agli altri elettori, questo è quanto è trappelato poi dai diari dei cardinali elettori dell'epoca, fece intendere di non essere pronto a questo passo così importante, quindi il suo nome era stato accreditato, era stato già accolto nella rosa degli elettori e poi accadde che durante anche le conversazioni, durante i confronti risultasse un po' chiara questa non piena disponibilità all'elezione a puntetice all'epoca, probabilmente la Chiesa ancora non era pronta una novità così grande, oggi i tempi evidentemente sono più maturi la Chiesa ha scelto un Papa del Sud America, quindi si apre a mio avviso una nuova stagione per la Chiesa. Come accennavi tu ho avuto l'opportunità proprio poco fa di carpire qualche informazione in più, qualche chicca, qualche primizia per raccontare alla nostra macerata e dialogando con il collega Lucio Brunelli del CZ2, posso testimoniarvi di aver letto negli occhi del giornalista una sincera emozione, la prima cosa che mi ha detto è stata che tre giorni fa ero a pranzo con lui, quindi penso che sia una sorpresa per tanti, sia un'emozione e il collega mi ha confermato veramente la grandezza spirituale di quest'uomo che è stato scelto come successore di Pietro e io penso che sia una scelta giusta, una scelta accolta subito con grandissimo aspetto. Alla fumata bianca, l'attesa fumata bianca di stasera è esploso immediatamente un boato qua in piazza San Pietro, la gente è esplosa in un'emozione di gioia, le campane hanno come previsto suonato subito a festa e poi ancora questa attesa crescente per vedere e conoscere il volto del nuovo pontefice che si è affacciato alla loggia delle benedizioni, quindi nel momento in cui si è affacciato è stato anche questo il primo segno di dialogo che il nuovo pontefice ha voluto intessere con tutti noi qua presenti. Papa Francesco tra l'altro è un gesuita, Macerata con i genitori suiti ha un ottimo rapporto, no? Sicuramente sì, infatti la prima impressione, parlando subito con i colleghi, è stata questa, è un gesuita, è un gesuita, è un papa gesuita, quindi persona colta, persona culturalmente preparata e chi meglio di noi come diocesi, insomma, dopo aver conosciuto il grande espessore spirituale e morale, nonché culturale di padre Matteo Ricci, non potremmo veramente non essere contenti di questa scelta e penso che se avete seguito anche voi in diretta le immagini della prima apparizione ufficiale da pontefice ci ha colpito questo suo porsi subito in maniera molto umile, non ha mai usato la parola papa, ma si è presentato come vescovo, come vescovo vicino alla gente e in fondo Antonio è questo che la gente, soprattutto durante le testimonianze raccolte in questi giorni e questo la gente aspettava, un papa vicino, un papa che sappia stare in mezzo al suo popolo e speriamo veramente che papa Francesco sia veramente capace di testimoniare il Vangelo, ma avendo un po' conosciuto la sua storia, così per sommi capi, adesso chiaramente abbiamo delle note biografiche sommarie, ma sappiamo che ha avuto anche delle esperienze proprio di vita reale, insomma, con il popolo, quindi è una figura che è capace, insomma, di dialogare e di saper parlare al cuore della gente, ci ha colpito anche questa figura lievemente, apparentemente un po' impacciata anche con l'uso del microfono, quindi questa figura così umile che si è posta immediatamente, ma i giovani in particolare ne hanno subito ben voluto, questa è stata la prima istantanea che posso raccontarvi da qua, quindi ci auguriamo che sia veramente l'inizio di una nuova stagione. Grazie.